Buon pomeriggio e buon viaggio da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Traffico è lento sulla Firenze e Pisa-Rivorno, siamo tra Scandicci e Firenze-Scandicci in direzione di Firenze. Sempre sulla strada di grande comunicazione, un veicolo in avaria tra il Bivio, Fipi Li, a 12 Colle Salvetti e l'interporto Toscano-Est in direzione di Livorno. Passiamo alla 1, ci sono lavori, personale su strada tra Aglio e Barberino di Mugello in direzione Firenze, sempre in direzione Firenze, lavori anche tra Rioveggio e Pian del Voglio. Lavori sulla Firenze-Pisa-Livorno, chiusura della corsia di marcia dal chilometro 68,100 al 68,500 in direzione mare nel ramo di Livorno, lavori fino alle 20 del 16 maggio. È tutto grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze. Grazie a tutti.